La chiusura della strada della Contessa e le problematiche relative agli interventi di riqualificazione lungo la Flaminia ripropongono la questione delle infrastrutture e della crescita socio-economica di un'importante area umbro-marchigiana. Inizia così la nota firma dei sindaci di Fano, Gubbio e Cantiano, che evidenziano l'esigenza di rilanciare in termini di sviluppo complessivo la questione della viabilità riguardante il nord-est dell'Umbria e l'immediata fascia territoriale dell'area interna del Basso Pesarese, nonché l'area della costa con particolare riferimento ai comuni di Fano e Pesaro. Alla luce di queste considerazioni e delle relative strategie istituzionali da intraprendere abbiamo ritenuto opportuno, hanno spiegato seri, stirati e piccini, indire una conferenza stampa per martedì 2 maggio alle ore 11 presso il comune di Fano per definire un grande patto tra le istituzioni e tutti i soggetti associativi portatori di interesse. La finalità è quella di reagire all'attuale criticità che si è venuta a determinare con una risposta alta di programmazione e di adeguamento infrastrutturale, tale da garantire per i prossimi anni una crescita virtuosa e più equilibrata rispetto alle altre dinamiche territoriali. Sindaco, i riflettori si sono riaccesi sui collegamenti tra Marche e Umbria, abbiamo visto anche le ripercussioni sulla viabilità, ma anche sulle attività economiche e turistiche. Com'è rimediare? Beh, intanto è un asse, oggi lo tocchiamo con mano, che è stata interrotta per ovviamente ragioni importanti perché necessita una manutenzione e noi vediamo quando non si fa manutenzione cosa può accadere, quindi questo era inevitabile ed è importante che si faccia, anzi ringrazio anche la mediazione che ha fatto la stessa regione per contenere il più possibile i tempi e questa è una buona cosa, però il tema vero è che quella è un'infrastruttura, un collegamento strategico per il nostro territorio, che ci lega con quella parte dell'Umbria e anche l'asse che porta verso Roma ed è fondamentale per le nostre unità economiche, per il nostro turismo, che è sempre stato il riferimento di una certa parte dell'entroterra dell'Umbria. Per cui con i colleghi di Gubbio, di Cantiano, ma questo riguarda un po' tutti, facciamo questa conferenza stampa intanto perché dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione, monitorare perché i tempi previsti vengano mantenuti, ma è anche un richiamo in prospettiva perché secondo me, secondo noi sarà importante anche pensare ad un intervento, ovviamente non oggi, ma come dicevo in prospettiva, di un miglioramento di questo collegamento perché è un asse strategico, è vero che c'è la quadrilatero, ma beneficia la parte sud delle marche, è importante la Fano Grosseto che deve essere ultimata e quella sta andando per la sua direzione, in prospettiva secondo noi è importante anche questo asse. Dunque un appello anche nei confronti del governo? Beh, è chiaro che ovviamente queste sono opere finanziate con strutture, risorse nazionali e per cui è importante che il governo faccia proprio anche questo aspetto strategico del collegamento della Contessa.